...per pazzi. Perché il nostro diritto non lo vogliamo ribadire? Io, come priore della quarta razione, dopo tanta storia, devo essere il priore della processione del grande santo o devo essere il priore di questa storia? Questa basilica, così, è o non è il risultato di quella storia? Le nostre proprietà sono o non sono i risultati di quella storia. Questo è il documento che io vi dico che poi l'ho proposto. 1886, 1876. Dal 1861 vi avevamo spogliato di tutto. Andate nemmeno le viaggiate, ci è raccontata tutta la storia. Questa chiesa, questa parrocchia viene vista in povertà. Ecco il diritto di patronato, la modernità. I padroni, stanno in questo libro, fanno una colletta, si prendono l'opera. Siamo gli anni del passaggio, ma noi speriamo di un passaggio vocale. Siamo passati da un sistema, da una monarchica, da un altro. E' un sistema monarchico che mi ha preso il tipo della chiesa. Ma c'era che cosa è successo. La nonna, il nonno di mia nonna, questa è raccontata un bambino. Diceva questa cosa che noi di Savoy ce ne avevano avuto la cosa. Ma noi Savoy ha tolto tutto. Ce l'ha tolto la figlia. Eh? La questione romana e tutto quanto altro. Il popolo di Piano risponde, perché si doveva ristrutturare tutto questo paese. Il popolo di Piano risponde, qui dentro, seppur ricerca, c'è la storia degli anni.